Moreno Longo, cresciuto nel Torino, un cuore granata. Questa sera vieni premiato per la splendida stagione che hai fatto con la primavera. Sì, ricevere questo premio per me è un onore perché avendo vissuto il settore giovanile da calciatore e la prima squadra in prima persona, rivivere questa emozione da allenatore della primavera e averla portata in una posizione di classifica che merita per questa società è stato motivo di vanto, motivo d'orgoglio e vorremmo concluderle al meglio. Tu sei cresciuto e ti sei allenato al Filadelfia. Il mio pensiero è sicuramente verso la rifondazione di quello che per noi è la storia, non solo per noi, credo che adesso a questo punto si parli di una struttura a livello mondiale, quindi tutti ci auguriamo che questo Filadelfia venga fatto perché non si può non porre le basi per la ricostruzione di uno stadio che ha fatto la storia del toro e del calcio. Allora in bocca al lupo per le finale? Crepi, e che crepino tutti gli altri, grazie.